Senti l'urlo che fai Bello, faccio la ultima e muoio Siete noi la squadra vincente! Ma nooo Uffo Uffo Eh, voleva fare la gradassa, eh? Ma no, sentite il suono della ultima Ma no, non è che distrutta! Che cosa è distrutta! Andiamo a si apri di qua, sperando Ah! Ma che cosa è successo? Cos'è che è successo? No! Guarda come si vede anche la torre e ferie Guarda quanto è bello Pato, Pakistan Davide, coglione? Davide... Gnome... Ah! Ma come ero? Ah! Ah! Ma non ti sto capendo niente Ma bastardo l'ha fatto per me E ci sta, ti sta bene Ma c'è Doomfist che chiede le cure C'è le cure proprio attaccate Non le prende Guardalo! Ha dato l'occhialino scosso! Ha dato l'occhialino scosso! Ha dato l'occhialino scosso! Ah! 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 Ma che volo era Guardalo il bastardo! Oddio che bella questa... Per riportare la skin Cazzo è successo Posso cambiare? Finalmente posso vedere gli hack che si fa male 5dv Quando Non mi ricordo cosa dire No è nemico questo, aspetta che mi uccide Ah là c'è una cura Non mi vede Non mi vede Fai l'abilità per andare avanti Ah no non sei trese No no Oh mio dio Bella Madonna Bella Andrò con la trappa La tua partita questa Serie di 15 E' i peli di 15 Eh i peli di 15 No No Moira Minca meno male No c'è la sua palla ancora Eh sì Perché merci non muore? Perché gli eroi non muoiono male Da puttano Da puttano Da puttano Dai che morta ma no Dov'è adesso? So Uuuu Io? Minchia si è disintegrato Eh? Perché c'è... Cosa è successo? Ma che è successo? Cosa? Mi ha fatto uscire di nuovo? A me mi ha buttato su e speranza Sì anche a me però adesso C'ho il... Ah ok ancora A me è un caricamento Sì era pure per me Il caricamento e adesso si vede Cos'è che ha scritto? Server and cart Io vedo il robot e le sono Tipo sdraiato dal robottone Ah avete già scelto? Siete già in squadra? Eh? Ah io no 5 4 Io sono Kubo In che senso? Sono tipo un fantasma Vedo sta roba Ma non è che sei aspettato No No Perché Hai Tipo L'omino E un omino con Il punto interrogativo Ecco che mi vedo arrivare tutti Adesso Non so che cosa è successo Lo stanno portando Ah come stai per essere Buttato via per un'attività Ma se io non posso far niente Ma che schifo No ma ci cascano sempre a rimanere attaccati Anche dopo mille anni Sento i tacchi Non c'è i tacchi Non è vero Non è vero Eh però Bob l'ha lanciato Guarda che morta Dov'è 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 Ma va far come Aschidati Mi Ti 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 Ti